Siamo davanti alla sede del Calcio Padova, da ore qui l'attesa estenuante, Musi Lunghi in attesa della svolta. La lunga agonia del Calcio Padova, ore interminabili di attesa in una giornata vissuta tra uforia e baratro. Dopo settimane di incontri, confronti, di manifestazioni e promesse per un salvataggio della società che era diventato materia da campagna elettorale. Oggi l'unica cosa che conta è che il Calcio Padova non è iscritto in Lega Pro. C'era la fideiussione del presidente Penocchio, ma l'ultimo, il patron dell'unicom Cestaro, dice no. Finisce la storia della squadra con un passato lungo ben 104 anni. Nessuno si è alzato in volo per portare a Roma le carte necessarie a completare l'iscrizione. L'ultima speranza era perfino un jet privato che pare fosse pronto a partire, rimasto però sulla pista dell'aeroporto Allegri di Padova. Il termine ultimo per portare i documenti completi per l'iscrizione era le 19. Ma che il barometro della società volgesse in burrasca si era già capito in mattinata, quando Marcello Cestaro aveva anticipato in una telefonata al sindaco il passo indietro. Nessun bonifico da parte sua per gli stipendi di calciatori e dipendenti. Triplice fischio per la storia del bianco scudo. Ed è già caccia ai colpevoli, mentre i tifosi sono in rivolta.